benvenuti o bentornati sul mio canale io sono Silvia e in questo tutorial andremo a realizzare insieme passo passo questa borsa dal sapore estivo con un filato molto particolare è un modello realizzato totalmente infilato vedremo passo passo come eseguire un fondo ovale come questo e come eseguire questa lavorazione super compatta perfetta per questo filato particolarissimo del quale vi parlerò tra poco vi anticipo si tratta del glitch di borgo de pazzi firenze e concluderemo il nostro progetto vedendo come inserire direttamente all'interno della lavorazione due manici in bambù come questi vi seguirò passo passo lungo tutta l'esecuzione di questo progetto perfetto anche per principianti poiché andremo ad utilizzare solamente i punti base della lavorazione all'uncinetto andiamo quindi a scoprire insieme tutti i materiali che ho utilizzato per questo progetto troverete il link per acquistarli nel box informazioni subito sotto il video e se questo tutorial sarà di vostro gradimento ricordatevi di farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video questi sono tutti i materiali di cui avremo bisogno per il nostro progetto in particolare una coppia di manici in bambù da 18 centimetri con attacchi in metallo e il filato glitch di borgo dei pazzi firenze lo abbiamo conosciuto nella mia ultima video recensione dedicata ai filati per borse del marchio borgo dei pazzi firenze un prodotto 100 per cento made in italy e parlando di percentuali abbiamo un 90 per cento cotone e un 10 per cento di poliestere l'aspetto è quello di una fettuccia un cordoncino piatto tricottato estremamente piacevole da lavorare la singola rocca di filato pesa 250 grammi e a una resa di circa 102 metri lavorabile con uncinetto e ferri da maglia con le numerazioni dal 9 al 12 il colore che ho scelto è un azzurro super intenso con qualche puntino di blu e di marrone lo trovate nella tabella colori del filato glitch con il codice 14 vi lascerò indicato sullo schermo il numero esatto di rocche che andrò ad utilizzare e nel box informazioni subito sotto il video troverete il link diretto per acquistare tutti i materiali che vi serviranno per replicare il nostro progetto andrò a lavorare il tutto con un uncinetto numero 10 ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e alla vostra mano di lavorazione inoltre per seguire più facilmente i vari passaggi per l'esecuzione del nostro fondo vi consiglio di tenere da parte un buon numero di marca punti fatto un cappio al nostro filo andiamo ad avviare 15 catenelle andiamo poi ad aggiungere una catenella in più per un totale di 16 catenelle partendo dall'uncinetto dobbiamo ora tornare indietro nella nostra quindicesima catenella la seconda dall'uncinetto contiamo quindi 1 e 2 entriamo nella catenella e vi lavoriamo un punto basso su questo punto basso che abbiamo appena lavorato andiamo a porre un marca punti il marcatore ci serve per ricordare dove comincia e termina ciascun giro di lavorazione proseguiamo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che ci si presenta nell'ultima catenella disponibile la prima con la quale abbiamo avviato il nostro progetto dobbiamo andare a lavorare tre punti bassi per creare così il primo angolo del nostro fondo entro quindi nella catenella e vi lavoro una 2 giro leggermente e sempre nella stessa catenella lavoro tre maglie basse su queste tre maglie basse che abbiamo appena lavorato andiamo a porre un marcatore questi marcatori saranno importanti per riconoscere nel giro successivo le maglie dove dovremo lavorare degli ulteriori aumenti davanti a noi ora abbiamo questa parte delle catenelle nelle quali abbiamo appena lavorato le nostre maglie basse dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa singola in ciascuna catenella che ci si presenta fino ad arrivare qui alla penultima catenella disponibile siamo davanti all'ultima catenella disponibile se notate all'interno di questa catenella abbiamo già lavorato un punto basso esattamente come abbiamo fatto nell'angolo opposto del nostro fondo qui nell'ultimo punto dobbiamo eseguire un aumento composto da tre maglie basse lavorate nella stessa catenella la prima maglia bassa l'abbiamo già lavorata è quella che abbiamo segnato col nostro marcatore dobbiamo quindi lavorare all'interno di questa catenella due punti bassi e andiamo a segnare queste due maglie con dei marcatori dobbiamo ora chiudere questo giro e cominciare il successivo vedete che sto utilizzando due tipologie di marcatori diversi utilizzo marcatori tutti uguali per i miei aumenti e con un marcatore diverso la maglia dove comincia e termina ciascun giro nel giro successivo sulle maglie segnate con i nostri marcatori dobbiamo lavorare degli aumenti questa maglia anche se segnata con un marcatore diverso è una delle tre maglie che compongono il mio angolo su ciascuna di queste tre maglie dovrò lavorare un aumento vado temporaneamente a togliere il mio marcatore entro su questa maglia e vado a lavorarvi due punti bassi il primo aumento di questo giro lavoro la prima maglia bassa e la vado a segnare col marcatore di inizio fine giro eseguo la seconda maglia bassa e la vado a segnare con un marcatore per indicare l'aumento ricapitoliamo velocemente sulla maglia segnata col marcatore di inizio fine giro ho appena lavorato un aumento composto da due maglie basse nello stesso punto ho messo il marcatore di inizio fine giro sulla prima delle due maglie basse mentre sulla seconda ho messo un marcatore che indica un aumento devo ora proseguire lavorando una maglia bassa singola su tutte le maglie che mi si presentano fino ad arrivare davanti alla maglia segnata con il marcatore sopra le tre maglie nell'angolo che avevamo segnato con i marcatori dobbiamo andare a lavorare un aumento quindi due maglie basse nello stesso punto se partiamo con tre maglie di base al termine dei nostri aumenti avremo un totale di sei maglie due quattro e sei andiamo a rimuovere il primo marcatore e nel primo punto andiamo a lavorare la prima di due maglie basse su questa maglia posizioniamo nuovamente il nostro marcatore e andiamo a lavorare la seconda maglia bassa nello stesso punto togliamo il secondo marcatore e lavoriamo due maglie basse nello stesso punto attenzione su tutte e due le maglie basse che abbiamo appena lavorato andiamo a mettere un marcatore andiamo a rimuovere l'ultimo marcatore e lavoriamo il nostro aumento una e due maglie basse nello stesso punto di base sull'ultima maglia che abbiamo lavorato andiamo a porre nuovamente il marcatore abbiamo posizionato un marcatore sulla prima la terza la quarta e la sesta delle sei maglie che compongono il nostro angolo proseguiamo lavorando una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare davanti al prossimo marcatore prima della chiusura del nostro giro che ricordiamo è segnata con questo marcatore ci restano da lavorare due punti due maglie segnate coi marcatori su queste maglie dobbiamo lavorare i nostri aumenti esattamente come abbiamo fatto nell'angolo precedente andiamo quindi a rimuovere il primo marcatore e lavoriamo la prima delle due maglie basse che comporranno il nostro aumento su questa maglia posizioniamo nuovamente il marcatore e nello stesso punto lavoriamo il secondo punto basso così da completare il nostro aumento togliamo il marcatore nel punto successivo e vi lavoriamo due maglie basse attenzione su entrambe le due maglie basse che abbiamo appena lavorato andiamo a posizionare un marcatore lavorando questi aumenti abbiamo ottenuto sei maglie nel nostro angolo esattamente come quelle presenti nell'angolo opposto abbiamo la prima seconda terza e quarta quinta e sesta maglia i nostri marcatori degli aumenti sono sempre sulla prima terza quarta e sesta maglia nell'angolo dobbiamo ora concludere questo giro e passare al successivo sulla maglia assegnata col marcatore ed inizio e fine giro andiamo direttamente a lavorare un punto basso tolgo quindi il marcatore sulla maglia assegnata lavoro un punto basso e vado a riposizionare il marcatore ed inizio e fine giro sulla maglia successiva abbiamo un marcatore che indica un aumento rimosso il marcatore su questa maglia andiamo a lavorare un nuovo aumento due maglie basse nello stesso punto sulla seconda maglia l'ultima lavorata andiamo a porre nuovamente il marcatore proseguiamo con una maglia bassa singola su ciascun punto fino ad arrivare al prossimo marcatore sopra le maglie segnate con i marcatori dobbiamo sempre lavorare un aumento le maglie che non presentano i marcatori vanno lavorate singolarmente rimuovo il marcatore e vi lavoro il mio aumento due maglie basse nello stesso punto di base sulla seconda maglia bassa lavorata vado a riposizionare il marcatore la maglia successiva non ha marcatore quindi la lavoro singolarmente abbiamo ora due maglie segnate con i marcatori lavoriamo il primo aumento sulla prima maglia segnata sulla seconda delle due maglie basse che abbiamo appena lavorato andiamo a rimettere il marcatore lavoriamo l'aumento sulla maglia successiva e questa volta il marcatore lo mettiamo sulla prima delle due maglie appena lavorate non possiamo sbagliarci perché è la maglia subito dopo quella che abbiamo appena segnato quindi avremo le due maglie centrali segnate coi marcatori la maglia successiva non è marcata quindi vi lavoriamo un punto singolo e lavoriamo un ultimo aumento sull'ultima maglia segnata col marcatore e mettiamo il marcatore sull'ultima maglia lavorata proseguiamo con una maglia bassa singola su ciascun punto fino ad arrivare al prossimo marcatore andiamo a concludere il giro lavorando gli aumenti che abbiamo appena eseguito sull'altro lato del nostro fondo togliamo il primo marcatore e lavoriamo il primo aumento sulla seconda maglia del nostro aumento posizioniamo il marcatore la maglia successiva la lavoriamo singolarmente lavoriamo un aumento sulla maglia successiva e sull'ultima maglia lavorata posizioniamo il marcatore lavoriamo l'ultimo aumento del giro e sulla prima delle ultime due maglie lavorate posizioniamo l'ultimo marcatore concludiamo questo giro lavorando una maglia bassa singola sulla maglia segnata col marcatore d'inizio e fine giro e riposizioniamo il nostro marcatore l'ultimo giro del nostro fondo è molto semplice sulle maglie segnate con i marcatori dobbiamo eseguire un aumento quindi lavorare due maglie basse sullo stesso punto di base dopodiché possiamo mettere da parte i marcatori viene da sé che le maglie non segnate col marcatore quindi le maglie libere andranno lavorate singolarmente quindi lavoriamo una maglia bassa singola su tutte le maglie non segnate con i marcatori e vediamo poi insieme come concludere la lavorazione del fondo con quest'ultimo giro di lavorazione il mio fondo ha raggiunto le misure 30 per 10 centimetri per completare la lavorazione andiamo ora a tagliare il filo sfiliamo la nostra asola e poniamo il filo su un ago davanti a noi abbiamo la maglia segnata col marcatore d'inizio e fine giro dobbiamo saltare questa maglia e concentrarci sulla successiva quindi dalla maglia segnata col marcatore mi sposto alla successiva sulla sinistra con il mio ago vado a passare da dietro sotto ad entrambe le costine che compongono questa maglia e porto il filo con me possiamo rimuovere il marcatore dopodiché torniamo indietro all'ultima maglia bassa lavorata non passiamo sotto ad entrambe le costine ma vi passiamo esattamente nel mezzo portando così il filo sul retro nel nostro fondo non ci resta che bloccare il filo sul retro del lavoro perché abbiamo saltato la maglia segnata col marcatore perché con i passaggi che abbiamo appena eseguito abbiamo ricreato la parte superiore di un punto se questi passaggi venissero eseguiti sulla maglia segnata col marcatore al termine del giro ci troveremo con un punto in più in questo modo lavorando nella maglia successiva a quella segnata col marcatore la maglia che abbiamo creato va a sostituire esattamente sopra la maglia che abbiamo saltato quindi al termine del giro avremo il corretto numero di punti senza alcun aumento realizzato un cappio con un nuovo filo scelgo una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul mio fondo una volta scelta la mia maglia con l'uncinetto devo entrarvi in costa retro prendendo cioè solamente la metà costina più lontana rispetto a me in questo modo pongo il filo sull'uncinetto e lo porto attraverso il punto dopodiché blocco il tutto come se volessi realizzare una catenella devo proseguire lavorando una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto che mi si presenta senza aumenti e senza diminuzioni entro quindi nel punto successivo prendendo solamente metà costina e lavoro un punto basso ripeto lo stesso nel punto successivo una maglia bassa sempre e solo nella metà costina più lontana la costa retro nel mio punto proseguo in questo modo fino a ritrovarmi qui al termine nel mio giro lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro nell'ultimo punto disponibile andiamo a chiudere questo giro e a cominciare il giro successivo i passaggi di apertura e chiusura giro che vedremo adesso insieme sono quelli che ripeteremo poi per tutti i giri di lavorazione del nostro progetto allunghiamo l'asola e sfiniamo l'uncinetto andiamo alla nostra sinistra a cercare le due asole le due costine del primo punto basso completo lavorato questo è il punto con il quale ci siamo agganciate alla lavorazione del fondo questo è il primo punto basso completo vi entriamo da dietro passando sotto ad entrambe le costine prendiamo la nostra asola la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro i due fili che compongono l'asola appena portata sul retro del lavoro sono diventati la parte superiore del primo punto lavorato nel giro precedente dobbiamo ora entrare esattamente al centro di questo punto che vedete come se fosse formato da una piccola v sfiliamo l'uncinetto tenendo ferma l'asola sul retro del lavoro e dobbiamo entrare proprio qui al centro nella nostra v in questo modo prendiamo il filo e lo portiamo con noi creando così una nuova asola recuperiamo quella lasciata sul retro del lavoro e abbiamo due asole sull'uncinetto prendiamo il filo e le chiudiamo insieme e questo sarà il primo punto del nuovo giro la parte superiore di questo punto l'andremo a ricreare con la nostra chiusura ci spostiamo ora nel punto successivo questo genere di lavorazione dove andiamo ad entrare al centro del punto basso sottostante si chiama punto maglia perfetto per essere lavorato con questa tipologia di filato e da un buon sostegno al nostro progetto non dobbiamo quindi considerare le due asole la parte superiore del punto ma dobbiamo sempre prendere in considerazione il centro del punto sottostante passando in mezzo i due fili che compongono la v del punto basso vado quindi esattamente qui al centro del punto vi entro con l'uncinetto prendo il filo e lo porta attraverso e lavoro il mio punto basso mi sposto nel punto successivo dove ripeto gli stessi passaggi ottenendo questo risultato proseguo in questo modo lavorando una maglia bassa al centro della maglia bassa sottostante fino ad arrivare qui al termine nel mio giro lavorata l'ultima maglia bassa al centro dell'ultima maglia bassa disponibile allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto questo è il punto che dovremo completare con la chiusura del giro mentre questa è la prima maglia bassa completa che abbiamo lavorato rientriamo da dietro con l'uncinetto poniamo l'asola sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro sfiliamo nuovamente e andiamo al centro del punto che abbiamo appena completato prendiamo il filo lo portiamo attraverso creando una nuova asola recuperiamo quella lasciata indietro prendiamo il filo e chiudiamo creando così il primo punto nel nostro nuovo giro in questo giro in tutti i giri successivi non dobbiamo far altro che ripetere gli stessi passaggi che abbiamo visto nel giro appena svolto lavoriamo una maglia bassa al centro della maglia bassa sottostante e i passaggi per apertura e chiusura giro li abbiamo appena visti insieme proseguiamo quindi lavorando in questo modo giro dopo giro fino ad ottenere un corpo borsa come questo ho lavorato raggiungendo un'altezza totale di circa 26 centimetri ho deciso di incorporare i miei manici all'interno della lavorazione del corpo borsa se non desiderate incorporare i manici ma preferite cucirli al corpo borsa in un secondo momento lavorate ancora per qualche giro raggiungendo circa i 27 28 centimetri dopodiché chiuso il corpo borsa andrete a cucire i vostri manici i manici vengono posizionati sul lato lungo della nostra borsa e ovviamente dovranno avere la stessa posizione sia sul fronte che sul retro del nostro progetto una volta individuata la corretta posizione del nostro manico come procediamo ho già avviato un nuovo giro di lavorazione posiziono il manico sul davanti all'esterno del mio corpo borsa devo andare ora ad entrare nel punto successivo passando attraverso l'anello e attraverso il punto passo quindi in mezzo all'anello attraverso il punto prendo il filo e lavoro un punto basso punto successivo ripeto lo stesso passaggio il punto successivo rimane all'esterno del mio anello quindi vi entro e lavoro il mio punto e ho così bloccato il manico all'interno del lavoro proseguo lavorando punto su punto finché non arrivo davanti alle maglie che mi servono per fissare l'altro anello del mio manico ripeto gli stessi passaggi tengo l'anello sul davanti entro nel punto e e vado così a fissare la seconda parte nel mio manico devo procedere ora lavorando punto su punto fino ad arrivare a dover fissare il mio secondo manico i passaggi saranno gli stessi che abbiamo appena visto insieme e arrivati al termine del giro chiudiamo e cominciamo il giro successivo ripetendo i passaggi che abbiamo eseguito per tutto il corpo del nostro progetto nel giro successivo che sarà l'ultimo del nostro progetto andiamo a rinforzare l'attacco del manico esattamente come abbiamo fatto per tutto il corpo del nostro progetto dobbiamo lavorare una maglia bassa all'interno della maglia bassa sottostante questo passaggio potrà sembrarvi un pochettino ostico perché ovviamente lo spazio dell'anello in metallo è molto limitato ma vi basterà spingere l'anello verso l'alto o verso il basso quando dovete entrare all'interno del punto nel mio caso spingo l'anello verso il basso e devo ovviamente passare all'interno di questa maglia prendo il filo e lavoro il mio punto passando all'interno dell'anello mi sposto sul punto successivo e poi torno a lavorare normalmente i miei prossimi punti questi sono tutti i passaggi che devono essere ripetuti per tutte le varie parti in metallo dei nostri manici proseguiamo lavorando fino al termine del giro che andiamo poi a concludere insieme lavorata l'ultima maglia bassa sull'ultimo punto disponibile allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo dopodiché sfiliamo il tutto e poniamo il filo su un ago con il nostro ago ripetiamo i passaggi che abbiamo eseguito sempre per tutto il corpo borsa con l'uncinetto entriamo da dietro sotto la prima maglia bassa completa lavorata del nostro giro e portiamo il filo con noi dopodiché torniamo indietro all'ultimo punto basso lavorato in questo caso non passiamo sotto ad entrambe le costine ma vi passiamo esattamente nel mezzo portando così il filo all'interno del corpo borsa abbiamo così chiuso la lavorazione della borsa in modo invisibile e non ci resta che andare a bloccare questo filo all'interno del lavoro e il nostro progetto è completato avete visto che non ho applicato alcuna chiusura al mio progetto ma se lo desiderate vi consiglio di inserire proprio qui al centro dei vostri manici un semplice bottone magnetico siamo così arrivati al termine di questo video tutorial che io spero sia stato per voi un buon spunto creativo abbiamo realizzato un modello dal sapore estivo con questo manico in bambù ma nulla toglie di replicare questo progetto inserendo magari un manico in pelle una tracolla insomma potete utilizzare le spiegazioni per il corpo borsa per personalizzare il vostro progetto secondo le vostre esigenze vi ricordo questo filato meraviglioso questa fettuccia tubolare glitch di borgo de pazzi firenze morbidissima da lavorare e devo dirvi la verità trattandosi di una fettuccia in cotone il risultato è veramente molto molto leggero tutti i dettagli per l'acquisto dei materiali li trovate nel box informazioni subito sotto il video e se questo progetto vi è piaciuto vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su un commento e ovviamente se ne avete piacere vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale per non perdere tutti i prossimi video tutorial che ho in programma per voi perciò con il mio nuovo progetto borsa vi saluto vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube a presto